Amici sportivi, appassionati delle due ruote, un cordiale saluto da Luca Gineto e dal tecnico Nadio Carraro. Siamo a Volpago del Montello, in provincia di Treviso, territorio questo di grande tradizione sportiva. Con il progetto Terre Rosse si vuole realizzare qualcosa che sia coerente con la sportività della provincia di Treviso. Nasce così la 10 giorni di sport sul Montello, che ha il suo centro, la mountain bike, con il campionato italiano Team Relay, la tappa finale del circuito internazionale d'Italia di cross country. Questa è naturalmente la partenza della Nordic Walking, alla quale hanno partecipato anche le autorità cittadine con tanto di fascia tricolore, mentre questa è la spettacolare partenza del trail running. Insomma, tutto quello che è sport in questa 10 giorni raccolta sotto il segno di terre rosse. La zona logistica è allestita a Casa Gobbato, una location d'eccezione immersi nella natura. Intanto gli atleti si stanno preparando per il campionato italiano Team Relay, specialità della mountain bike inserita nel programma del campionato del mondo di mountain bike. Dal 1999 una staffetta a squadre miste. Gli atleti dunque si stanno preparando il via di questa 10 giorni che culminerà poi naturalmente con quella che è la gran fondo del Montello Terre Rosse. Dicevamo dunque che tanti campioni nelle varie squadre, team che dunque si presentano per conquistare questo ambito titolo, Team Corate Kate con Michele Casagrande, ma anche il team della forestale, tra gli altri il campione italiano di Coscrante Mirko Tabacchi, il Focus Italy Cross Country, TCC LGL Pro Team, i due di casa pedali di marca Cormaier, Team Lombardo Bike e la Friulana Triumvium Likugan. Squadre composte da quattro atleti, tra i quali una donna e devono fare un giro a testa passando il testimone sulla zona cambio posta sotto lo striscione di arrivo. La partenza dunque con il gruppo di atleti ancora compatto, uno per team in prima posizione la Corate Kate con Michele Casagrande e via via dunque il passaggio delle varie formazioni in gara, dicevamo gara molto spettacolare ma soprattutto un tracciato incredibile, una vera patria per le due ruote, 13 le squadre dicevamo in testa. Seconda posizione per il team TTC LGL Pro Team, ora al terzo posto c'è la forestale con Mirko Tabacchi e quarto è il Carraro Team Trentino. Queste le prime posizioni della squadra, della gara a squadre, poi naturalmente vedremo l'evolversi con naturalmente il cambio, intanto abbiamo visto anche quinta posizione per Focus Italy, poi sesto Hersch Racing Team, ancora con passaggi molto molto impegnativi in questo cross country discesa e intanto ancora con il passaggio del Trivium League Hogan. Il prima zona cambio, siamo dunque gli atleti che stanno aspettando il rispettivo compagno che passerà il testimone e dunque inizieranno il giro. Questa è davvero una situazione molto molto impegnativa, vedete intanto anche Nicolas Pettinà del gruppo sportivo forestale, attenzione perché arriva il primo cambio Michele Casagrande del team Corate Kid con alle spalle l'atleta della TTC LGL Pro Team, tocca il compagno e inizia dunque il secondo giro e qui terza posizione per il gruppo sportivo forestale Tabacchi finisce il giro, parte Nicolas Pettinà, davvero spettacolare anche per il pubblico questa formula di gara. Ancora guardate la volta adesso del team Carraro Trentino in quarta posizione, in una corsia si arriva, poi il tocco e la partenza. Attenzione anche il team Focus con Andrea Rigettini, il cambio dunque per un altro team, ora è la volta di Hersh Racing Team per il cambio molto impegnativo, ritmi sostenuti in questa sorta di gara sprint sul giro. Attenzione anche l'atleta del team pedale di marca con il petrolale numero 6, si parte per il secondo giro, pedali di marca impegnata con Massimo Panighel dunque nell'organizzazione che oramai ha creato nel Montello una patria. Ma torniamo sul percorso per passaggio in discesa, molto spettacolare, guardate curve e contro curve, molto molto impegnativo. In testa abbiamo visto il gruppo sportivo forestale con Pettina, poi secondo il team TTC, LGL Pro Team e poi adesso il Coratechit con Domenico Valerio e adesso guardate ancora questa serie di tornanti curva contro curva e giù in discesa con adesso il quarto con il focus cross country Italy Team con Righettini, queste le prime posizioni, si ferma, ci si blocca, si deve ripartire perché la discesa poi ad angolo e qui, quinti, sono i ragazzi del Carrado Team Trentino. Ancora sempre questo punto molto molto impegnativo, terreno in perfette condizioni. Qui il passaggio di Hersh Racing Team ancora, vedete, riconoscibili con lo stesso numero di pettorale, gli stessi atleti del team, con Andrea Cina, Luca Cina, Cindy Casadei e David Clerici. Qui invece con Trivion Lee, Kogan, altra formazione impegnata in questo timbre, davvero molto molto suggestiva come formula di gara. Michele Marescutti, Lorenzo Dalpiva, Erika Vendrame, Davide Nardei. Cora con pedali di marca. La formazione organizzatrice di questa manifestazione, di questa serie di eventi che caratterizzano ormai con Nicolo Ferrazzo, Alessio Camilli, Jessica Pelizzaro e Luca Tessaro. Mentre ecco, vedete che già in zona cambio sono pronte le ragazze a dare il cambio questa volta ai compagni di squadra. Abbiamo visto Alessia Bulleri del Forestale, Serena Calvetti della Coratec e poi Lisa Rabensteiner del Focus Italy Team e ancora con Anna Operparleiter del Carraro Team Trentino concentrata in attesa dell'arrivo dei compagni di squadra. Ed ecco la Forestale. Prima di arrivare in zona cambio con Nicola Spettinà che si cambia con Alessia Bulleri. Partita alla grande, grande piglio dunque per l'avvio del Team Forestale che sta guidando la classifica. Ricordiamo che il gruppo sportivo forestale ha vinto al Team Ralea anche nell'edizione 2013. Dunque sono i campioni italiani in carica. Terzi abbiamo visto i ragazzi dal Team Coratec secondo posto per il Team TTC LGL Pro Team. Mentre adesso naturalmente ecco vedete ripartire naturalmente Serena Calvetti per il Coratec Kit. Adesso con Focus Italy Team che ora lancia Lisa Rabensteiner. Velocissima anche lei. Prima parte di sterrato poi cominciano il turno del Cararo Team ora con Anna Oberparleiter. Le note musicali che incoraggiano e stimolano i partecipanti. Ora Ash Reshin Team con il pettorale numero 7. La volta di Cindy Casadei. La frazionista femminile. Ora il Team Tribune Lee Cogan con Erika Vendrame. Intanto anche per pedali di marca è il momento del cambio e parte Jessica Pelizzaro. Siamo in settima posizione. Adesso tra poco dovremo assistere anche al Team Lombardo Bike. Cambio dunque anche per questa formazione. Siamo ormai alla terza frazione sulle quattro con Claudia Andolina che rappresenta dunque il Team Lombardo. Intanto sul percorso tratto chiamato Petberg. Nome preso dalla corsa ciclistica delle Fiandre. Dunque molto molto duro. Sempre la forestale al comando con Alessia Bulleri. Formazione molto molto competitiva e guerrita. Mentre in seconda posizione c'è Serena Calvetti. Corate Kit è terza. Lisa Rabensteiner. Focus Italy Team. Molto ravvicinate la seconda e la terza concorrente in gara. Qui al quarto invece l'atleta della TTC LGL Team Giulia Gaspardino. Quinta a questo punto dovrebbe essere un overpall del Cararo Team Trentino. Rispettate quasi le posizioni rispetto al terzo cambio. Qui a sesta Jessica Pelizzaro del Team Pedali di Marca. Sentite come viene incitata dal personale di servizio naturalmente di pedali di marca lungo il tracciato. Mentre al settimo posto c'è la biker della Hersh Racing Team. Sempre riconoscibili col petorale 7 ed è Cindy Casadei. Qui intanto siamo in zona cambio perché si sta preparando naturalmente il friulano Braidot del gruppo sportivo forestale. Luca Braidot. Eccolo pronto. Thomas Pacaniella. Corate Kit. E attenzione perché c'è sempre viene segnalato sempre il gruppo sportivo forestale in testa con Alessia Bulleri. Ecco farà partire dunque Braidot in vantaggio. Ecco ancora vedete il tocco veloce. Parte dunque Braidot a pochi metri. C'è subito Lisa Ravensteiner del Focus Italy Team. Attenzione perché è veramente grande grande battaglia davvero. Ora siamo già con Serena Calveti che ha lanciato Thomas Pacaniella. A quarto è il TTC LGL Pro Team con l'ultimo frazionista Federico Barri. Mentre attenzione perché adesso è Anna Oberpallaiter che lancia il compagno del Carraro Team Trentino. Martino Fruett. Altro grande nome delle due ruote fuori strada. Mentre ecco Jessica Pelizzaro che lancia a questo punto l'ultimo frazionista del Team Rudy Project Pedale di Marca Luca Tessaro. Pettorale numero 8 per il Team Pedale di Marca. Ancora Pettorale numero 5 impegnati dunque in questa fase finale di gara. E poi con Lombardo Team per completare le fasi di cambio. L'ultimo frazionista. Attenzione perché intanto ci spostiamo sul percorso di gara forestale. Sempre in prima posizione con Luca Braidot. Altro grande grandissimo atleta del fuoristrada azzurro. Attenzione perché in seconda posizione è risalito al Focus Italy cross country team con Fabian Rabensteiner. Sentite anche come si possa godere il silenzio in questa zona del Montello. Qui grande colpo di Reni per Thomas Paccagnella. Attenzione intanto con l'arrivo di TTC al G Pro Team che è ora al quarto posto con Federico Barri. Il quinto posto invece per il Carraro Team Trentino Martino Fruet. E qui torniamo per accogliere il vincitore. Si guarda alle spalle ma non c'è storia. Può anche stirare la maglietta, alzare le braccia al cielo e festeggiare il secondo successo consecutivo come già nel 2013 anche per il 2014. Il titolo del Team Roelè va al gruppo sportivo forestale. Mentre abbiamo visto dunque il secondo posto per il Focus Cross Country Italy Team. Mentre abbiamo poi il terzo posto per il Team Veneto Coratec Kit con il grande dunque successo per la formazione del forestale con Mirko Tabacchi, Nicolas Pettina, Alessia Bulleri e Luca Braidot. Davvero grande grande competizione. Successo per tutti l'argento per il Focus Italy Team dicevamo e bronzo per il Coratec Kit. Arrivo anche per la TTC LGL Pro Team che chiude in quarta posizione. Questa gara davvero davvero suggestiva e spettacolare. A coronamento di questo avvio del progetto dei 10 giorni di Terre Rosse e dunque siamo con il podio e con l'inno di Mameli. Abbiamo visto al terzo posto dunque il Team Coratec Kit, al secondo posto argento per il Focus Italy Team con Beltane Schmidt, Andrea Rigettini, Lisa Rabensteiner e Fabian Rabensteiner dunque questi e al primo posto dunque il gruppo sportivo forestale con l'inno di Mameli. E dunque siamo ora con questa sintesi alla gara della sesta e ultima tappa degli internazionali d'Italia di Cross Country. Dopo le tappe di Maser sempre in provincia di Treviso, Montichiari in provincia di Brescia, Nalles a Bolzano al Pago in provincia di Belluno, Vermiglio in provincia di Trento, tocca ora al Volpago del Montello. Prima gara è dunque la partenza, attenzione con la gara Open femminile. Qui ancora Anna Oberpallaiter del Cararoti, Malessia Bulleri tra le grandi favorite, ma da subito in testa l'alto a tesina Lisa Rabensteiner, Focus Italy Team. Abbiamo visto già protagonista del Team Raleigh e subito ad inseguirla Serena Calvetti Coratec Kit, a ruota Anna Oberpallaiter. Poi c'è subito Emily Colom del Team con Nago su Tirol e a ruota Alessia Bulleri, quindi Chiara Teocchi prima tra le donne junior e quindi Lisa Rabensteiner sempre in prima posizione. Si ritorna a seguire la testa della gara, questo tracciato davvero impegnativo. Lei segue Serena Calvetti a circa un minuto e trenta con Anna Oberpallaiter in terza posizione. Davvero lanciatissime, molto competitiva la gara. Questi tratti di sali e scende molto duri qui con Emily Colom con Nago su Tirol. Quarta posizione, quindi il passaggio anche per Alessia Bulleri. Mentre attenzione perché c'è anche la russa e Caterina Onoscina con la ruota Chiara Teocchi in sesta posizione. E d'intenzione perché terzo giro passaggio chiamato Oruge che ricorda il circuito di Spa in Formula 1 e qui perché c'è una discesa molto impegnativa e bisogna essere concentrati a prendere la giusta traiettoria come ha fatto Lisa Rabensteiner sempre al comando della gara e a ruota dunque Serena Calvetti, Anna Oberpallaiter e Ines Gutierrez l'atleta argentina. Qui intanto Lisa Rabensteiner aumenta il ritmo e siamo già oltre metà gara quindi molto molto impegnativa. Sempre la piemontese Serena Calvetti al secondo posto subito terza poi Anna Oberpallaiter eccola inquadrata naturalmente con una competizione che ha regalato momenti di grande agonismo. Qui intanto attenzione quarta assoluta è prima junior c'è Chiara Teocchi mentre quinta Emily Colom via via le posizioni guardate veloce il cambio marcia e su e giù e vai ed ecco un po' attardata Alessia Bulleri attenzione con un po' di ritardo tanto lì davanti continua l'azione della Rabensteiner non si ferma poi guardate questa salita durissima per le atlete vedremo poi anche l'esito della competizione maschile intanto con sempre la Calvetti ad inseguire poi dovremo trovare in terza posizione eccola l'alto a tesina Anna Oberpallaiter 205 il suo pettorale molto silenzio in questo tratto del bosco davvero piacevole questo è una la patria della mountain bike il montello attenzione intanto la russa Vera Andreva che si è portata al quarto posto dunque ha risalito posizione su posizione ancora attenzione perché adesso le atlete devono tuffarsi in questa discesa con curve e contro curve sempre molto impegnative l'atleta focus in testa con Serena Calvetti corate kit che la insegue però con oltre due minuti di ritardo sulla testa con Anna Oberpallaiter terza e sempre con questi continue curve e contro curve molto impegnativo e altro passaggio dal nome particolare tornantino rancasse dal circuito di Monte Carlo di Formula 1 davvero gli organizzatori e Massimo Panigali in testa hanno saputo interpretare il meglio nell'ambito della sportività intanto attenzione perché siamo con abbiamo visto la Rabe Steiner poi la Calvetti e la Oberpallaiter terza adesso proprio il passaggio della Oberpallaiter mentre alla quarta posizione viene confermata la presenza della russa Vera Andreva in grande grande velocità il passaggio anche per Serena Tasca della F-Mem Bike Factory Team intanto ci portiamo in zona arrivo dove tutto è pronto per accogliere le protagoniste di questa gara e con Lisa Rabensteiner Focus Italy Cross Country Team che vince in un'ora 45 e 34 secondi davvero grande prova dominio assoluto e seconda è Serena Calvetti della Coratec kit dopo 3 minuti e 0,5 davvero grande prestazione per la Rabe Steiner che ha staccato le avversarie terza Anna Oberpallaiter Carraro Team Trentino queste le prime tre posizioni della gara dunque femminile qui c'è il podio con Serena Calvetti e Lisa Rabensteiner che vincono anche le maglie di leader degli internazionali d'Italia delle loro rispettive categorie dunque intanto tutto è pronto per la gara più attesa della giornata vale a dire la gara open maschile tutti i migliori al via non c'è il fuoriclasse e olimpionico italiano Marco Aurelio Fontana leader della classifica ci sono però Gerhard Karscherbaumer Andrea Tiberi e l'Eston Martin Lu poi il campione italiano Mirko Tabacchi che rimetterà in palio la sua maglia ai campionati italiani previsti a Gorizia a fine luglio e dunque attenzione siamo già con la partenza precisa della gara open maschile si alza il polverone tanti tantissimi i concorrenti in gara e subito decine di metri gli open devono compiere sei giri da cinque chilometri quindi vedremo alcuni passaggi proprio in zona arrivo che ci permetteranno di seguire al meglio la competizione e questo anche per il pubblico siamo verso la fine del primo giro con al comando Gerhard Karscherbaumer seguito da Michele Casagrande Andrea Tiberi Luca Braidot Gutierrez Martinez Mirko Tabacchi queste dunque le posizioni di testa intento al comando si è portato ora Luca Braidot del gruppo sportivo forestale seguito è rotta da Tiberi mentre in terza posizione Ivan Alvarez Gutierrez poi Daniele Braidot quarto Martinez quinto Karscherbaumer sesto è scivolato via via di posizioni intanto più staccato abbiamo visto anche Mirko Tabacchi gruppo intanto degli inseguitori aperto dal Veneto Nicola Spettina questi gli inseguitori e qui intanto attenzione Ivan Alvarez Gutierrez che si è portato al comando alle spalle Andrea Tiberi e Miguel Martinez spettacolare davvero questo tratto di discesa l'abbiamo visto già con la gara femminile un po' meno combattuta visto il netto successo del Rabe Steiner intanto attenzione perché siamo con Nicola Spettina poi il russo Anton Sintusov in settima posizione via via intanto siamo in area tecnica con Miguel Martinez che è passato al comando inseguito da Alvarez Gutierrez gara internazionale a tutti gli effetti dunque con gli atleti stranieri che stanno iniziando a dominare questa gara Andrea Tiberi dunque in terza posizione mantiene dunque questa parte alta della classifica qui invece con Daniele Braidot del gruppo sportivo forestale abbiamo visto poc'anzi vittoriosi nel Team Relais quinta e sesta posizione invece per Pettina e Tabacchi con ora Anton Sintusov con la settima posizione intanto eccolo con Sintusov questo tratto molto anche frequentato dal pubblico zona molto accessibile intanto continua il forcing del francese ancora al comando con Miguel Martinez perde secondi preziosi invece Ivan Alvarez Gutierrez a favore dunque di Martinez siamo davvero con una grande lotta posizioni che cominciano a designare con Andrea Tiberi al terzo posto attenzione adesso da capire se si riuscirà poi ad incalzare la classifica ma soprattutto con la maglia leader di Marco Aurelio Fontana con intanto Nicola Spettina passato al quarto posto inseguito dal compagno Daniele Braidot attenzione intanto spettacolare discese Anton Sintusov sesto inseguito da Martin Lu in settima posizione con intanto Martinez che si guarda indietro non vede nessuno ultime centinaia di metri e poi sarà arrivo per lui dunque gara d'attacco piano piano ha guadagnato posizione su posizione fino ad arrivare dunque alla conclusione davvero gara gara molto molto spettacolare il francese dunque vince la tappa veneta degli internazionali d'Italia un'ora 41 e 43 davvero grande gara e grande gioia mentre siamo ora con gli ultimi metri anche per lo spagnolo Ivan Alvarez Gutierrez per lui seconda piazza ultimi metri davvero e poi con intanto ancora vedete in fase in fase finale per Ivan Alvarez Gutierrez l'atleta spagnolo del team Selle San Marco Trek in un'ora 42.54 questo il suo tempo un minuto e dieci di distacco dal vincitore Miguel Martinez con Massimo Panighella raccontare naturalmente la bellezza del tracciato mentre intanto con Andrea Tiberi che si appresta a chiudere sul terzo gradino del podio tra gli applausi del pubblico in un'ora 43 e 08 dunque grande spettacolo in questa prima parte del progetto Terre Rosse con il campionato italiano Team Relais con la sesta e ultima tappa del circuito degli internazionali d'Italia via via gli altri arrivi con Nicola Spettinata, Daniele Braidot, Martin Lu, Anton Sinsov e la gioia, la felicità naturalmente per coloro che sono stati i protagonisti di questa splendida gara tabellone con la classifica finale ricordandovi dunque che 28 e 29 sarà il momento del Gran Fondo del Montello grande appuntamento delle Terre Rosse cerimonia di premiazione siamo dunque in chiusura di questa sintesi ringrazio il tecnico Nadio Carraro per la sonorizzazione da Luca Ginetto un grazie a tutti e la risentirci e la rivederci su RaiSport grazie 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 grazie